Io ho un'amica carissima che ogni tanto viene a trovarci, ne viene da Federico, quando se ne va dico grazie Sandra di essere venuti, e lei mi dice grazie a Federico e a voi di permettermi di stare vicino a voi, e non solo lei, torno a Federico è nata un'associazione di amici, quindi questi pazienti secondo me se guardati, ascoltati, certo con un modo come dire interiore, danno alla società, a noi, alle persone fuori, possono dare tantissimo, e io lo riscontro ogni giorno, ripeto non solo attorno a me, ma quelli che vivono al di fuori attorno a me, quello che riescono a prendere o a cambiare, addirittura a cambiare il loro modo di vedere, di ascoltare, eccetera, la sensibilità, l'attenzione a certe cose che vivendo una realtà del genere si sviluppa chiaramente. Molto spesso noi ci troviamo di fronte a un rapporto unilaterale dal punto di vista della verbalizzazione, però a me piace molto più avere un rapporto medico-paziente prolungato, perché in questo modo si riescono a trovare quelle sfumature che in un rapporto medico-paziente come può succedere in pronto soccorso, negli ambulatori specialistici, eccetera, c'è solo un buongiorno come sta, una raccolta di dati che riguardano lo stato del paziente in quel momento e poi dopo c'è la prescrizione della cura oppure la diagnosi, la prescrizione relativa. In questo caso invece c'è un percorso che si fa nel conoscere il paziente e poi condurlo insieme a quello che il paziente dà come risposte alle nostre terapie, alle nostre stimolazioni. Le stimolazioni non sono dettate solo dall'uso di farmaci, ma anche dall'uso di terapie fisiche, la fisioterapia è una delle cose più importanti con le varie sfaccettature e poi, ripeto, tutte quelle stimolazioni che vengono effettuate qua dentro, tipo la stimolazione neurosensoriale fatta con l'ausilio fisioterapeutico, ma anche l'ausilio per esempio della musicoterapia che qui viene fatta e dove il paziente dovrebbe avere un maggior agio e qui rientra il discorso della qualità della vita, per cui si cerca di coinvolgerlo con i canali che sono percorribili quanto più possibile. Quello che fa l'educatore un pochino più mirato è la regolazione sensoriale. All'interno della camera si crea un ambiente molto tranquillo, molto accogliente e lì inizia il lavoro l'educatore. È un lavoro che inizia anche attraverso la conoscenza da parte del familiare, quindi chi era prima, cosa faceva prima, quali erano i suoi interessi, anche perché nel momento in cui tu vai a stimolare i cinque sensi, utilizzi degli odori, stai anche attenta che magari se la signora, non so, non gli piacevano gli odori forti, eviti di mettergli un odore forte perché sennò... E quindi si conosce poi la persona così. È una conoscenza molto lenta, infatti la prima caratteristica che ti insegnano al corso è avere tanta pazienza, ma è proprio infinita. E poi si crea questa relazione con lo stato vegetativo che poi diventa, come dicevo, appunto una persona con un nome. In questo caso abbiamo la signora Valeria qui con noi. Io posso continuare a dire che l'amore che in tutti questi anni io trovo e che si è sviluppato... A me piace osservare, vivendo tutti i giorni, non guardo solo mio figlio chiaramente, guardo tutte le persone che attorno, i familiari che attorno. L'amore che io vedo qui dentro, attorno a queste persone, ma che queste persone sono riuscite a trasmettere, aiutando i familiari o le persone a fare un percorso, non esiste, non ho trovato in nessun'altra realtà difficile o comunque pesante, come può essere un tipo di patologia pesante, fuori. C'è un amore, riescono a trasmettere un amore, e questa non è retorica, è provato dal personale, dagli assistenti, dagli operatori, tutti. Non sono la mamma che parla. È diventata una famiglia assolutamente allargata, è diventata una famiglia che condivide anche il privato, una famiglia allargata che condivide anche il privato degli altri, delle altre persone, e che comunque continua a vivere, nel modo migliore, nel senso si trova in questa realtà il modo migliore per continuare a vivere. Ci sono tante cose che sono cambiate, forse siamo per fortuna tornati ad essere un po', a guardarci un po' più dentro. Uno degli aspetti essenziali dei nostri pazienti in stato vegetativo persistente o con grave disabilità è quello proprio di curarsi della qualità della vita del paziente ed assicurarla quanto più possibile migliore. Perché, come dicevo prima, noi dobbiamo garantire le basi, i pilastri di una eventuale, non dico rinascita, ma un eventuale miglioramento clinico. Il miglioramento clinico si basa sulla cura anche degli aspetti che vengono considerati da altri meno importanti, dal fatto della voce, il contatto fisico, creare quell'ambiente familiare, per cui se c'è un minimo di intuizione da parte del paziente questo possa essere carpito o lui stesso possa capire di trovarsi in un ambiente comunque amico e che possa fare per lui il massimo che si possa ottenere per quella condizione clinica. Si comunica attraverso un gesto di cura, in questo caso attraverso il passare una crema su una mano, vedere che inizialmente ci sono delle risposte, bisogna stare un pochino attenti a leggerle con un po' di dovuta attenzione, però magari inizialmente la persona può diventare rigida perché al tocco può essere una risposta di spavento, però poi se rassicurata, perché comunque l'educatore parla, non si rimane in assoluto silenzio, attraverso poi delle parole molto guidate, molto mirate, la persona arriva un pochino a rilassarsi. Si comunica il mondo che cambia fuori, per esempio adesso che ci stiamo avvicinando l'inverno, comunicare il freddo, in questo caso gli sottoperrò dei cubo a T di ghiaccio, questo per dirle che è cambiato il tempo fuori, siccome non fa più parte del mondo, il mondo che entra all'interno delle istituzioni attraverso, in questo caso il ghiaccio, per dirle che è arrivato il freddo. Oppure ci sono dei laboratori di cucina, il laboratorio di cucina che viene fatto una volta al mese all'interno della struttura è finalizzato a chi ha delle capacità di mantenerle e invece poi diventa una stimolazione sensoriale per tutti perché si diffonde un odore di casa che nelle istituzioni viene a mancare. Quindi in questo caso vengono coinvolti, sempre finalizzati ai pazienti, però vengono coinvolti anche i parenti, vengono coinvolti anche magari persone che lavorano in struttura solo da un punto di vista amministrativo, non operativo, si sente un po' questo odore di casa e questo è una cosa molto, è molto gradita, è molto gradita anche da chi per la prima volta arriva in una struttura, in un'istituzione con un evento così importante, sentire questi odori molto caldi che ti accompagnano, non dico che alleggerisce la situazione, però per quel minuto puoi pensare che c'è la possibilità di farcela.